io in 144p io in 360p io in 4k ciao che lavoro fai? uccido gli zombie cosa? ma non esistono ne hai mai visto uno? no ringraziami sapone, lavandone, 3, 2, one mi sto lavando le mani, lololò posso smettere ora? no, no, no uffa mi sto stufando, sai che posso fare contare tutti i numeri che riesco a ricordare 1, 2, 3, mi sono stufato di contare i numeri, è noioso allora elenchiamo gli animali tigre, 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 lucerto, la tigre mi vengono solo in mente due animali quanto tempo manca? uffa, uffa, uff ancora 20 secondi? sono stuf ora mi invento delle parole per passare il tempo zobbo, cluffo, sdramba hobo, hobo, boh, boh, boh ho forse quasi finito la canzone mi sciacquo le mani nello sciacquone cos'è quell'ombra misteriosa? fuori da... alle 008 prova gli effetti con suo mamma check 3 Alessandro Sì, e anche tre mammine Mammina, ti piace il mio nuovo look? Mi piace il tuo video Lui ci piacciono tutti i video, eh? Sì Ma lo calmo, ne che denti Non hai proprio adorondisto Adesso stiamo prendendo fuoco Lo so, mamma Aiuto, chiamate i pompieri Mamma mia, come sono per me Tutto Mamma, guarda come si chiatta Mamma mia Mamma, cosa è successo? Tu sai qualcosa? Ti hanno sdoppiato Oh no Oh sì Via Cos'è? Pronto papà o Natale? Ci sei? Oh poca miseria Questa è il numero di labbra Fanno così tanto, eh? Bello Dice pugno Ma non fa niente Pugno Pugno? Non può ... Pugno Seguimi su TikTok.